Nel 2020 sono stati censiti 43 nidi di fratino, lo stesso numero del 2019, 29 all'interno di aree naturali protette e 14 al di fuori, ben 16 nidi nella riserva regionale del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi, 13 nell'area marina protetta a Torre del Cerrano di Pineto, 9 in zona foro ad Ortona, 3 a Giulianova e 2 ad Alba Adriatica. Si registra quindi una polarizzazione delle presenze a Roseto degli Abruzzi, Pineto e Ortona, anche se è probabile che il divieto di svolgere monitoraggi causa lockdown per il Covid non abbia consentito di individuare tutti i nidi presenti. Diciamo che per quest'anno, nel 2020, i risultati sono gli stessi del 2019, quindi c'è un trend diciamo uguale a quello dell'anno precedente. Noi ci aspettavamo sicuramente qualche risultato migliore perché con il blocco delle attività credevamo che era possibile appunto una maggiore presenza di fratini sulla nostra costa. È anche vero che è stato molto difficile per noi fare i monitoraggi attraverso i volontari che collaborano con il WWF e con l'area marina protetta per il progetto Salva Fratino Abruzzo. Le nascite si attestano al 51%, anche questo dato in linea con il 2019, con punte del 75 a Roseto degli Abruzzi di Ortona. Purtroppo si sono registrate perdite molto elevate nell'area marina protettatore del Cerrano a causa della predazione naturale da parte di una volpe, nonostante una serie di misure di tutela. Le crescidità restano sempre, anche perché quest'anno abbiamo avuto un'annata molto particolare, quindi da una parte il lockdown ha favorito una serie di nidi, poi però ci sono stati fenomeni che li hanno ridotti, quindi un po' di predazione naturale, un po' altri fenomeni, per cui abbiamo anche fatto dei passi avanti capendo dove bisogna andare a migliorare le criticità.